Ascoltiamo un'esperienza della madre, dettata di persona probabilmente a pavitra, che le parve anche meritasse di essere letta ad alta voce al playground. Prima di allora, con il mondo supramentale, avevo avuto un contatto individuale soggettivo. Il 3 febbraio 1958, invece, sono andata a passeggio concretamente, tanto concretamente quanto un tempo passeggiavo per Parigi, in un mondo esistente in sé stesso, al di fuori di qualsiasi soggettività, come se tra i due mondi si stesse gettando un ponte. Ecco l'esperienza così come l'ho dettata subito dopo. La madre legge. Il mondo sopramentale esiste permanentemente, e io vi dimoro in permanenza in un corpo sopramentale. Ne ho avuto la prova proprio oggi, quando la mia coscienza terrestre vi si è recata, rimanendovi consapevolmente tra le due e le tre pomeridiane. Adesso so che ciò che manca perché i due mondi si congiungano in un rapporto continuo e cosciente, è una zona intermedia tra il mondo fisico e il mondo sopramentale, così come sono. È questa zona che rimane ancora da edificare, tanto nella coscienza individuale, quanto nel mondo oggettivo e che è in edificazione. Quando, tempo addietro, parlavo del mondo nuovo in via di creazione, mi riferivo appunto a questa zona intermedia. Così, quando mi trovo da questa parte, cioè nell'ambito della coscienza fisica, e osservo la forza, la luce e la sostanza sopramentali, penetrare di continuo la materia, ciò che vedo è la costruzione di questa zona, cui prendo anche parte. Mi trovavo su un'immensa nave, rappresentazione simbolica del luogo in cui si sta svolgendo questo lavoro. La nave, grande quanto una città, era perfettamente organizzata e sicuramente già in funzione da qualche tempo, dato che il suo allestimento era completo. È il luogo in cui si formano le persone destinate alla vita sopramentale. Queste persone, o almeno una parte del loro essere, avevano già subito una trasformazione sopramentale, poiché la sostanza costitutiva della nave e di tutto ciò che si trovava a bordo non era materiale né fisico sottile né vitale né mentale. Era sostanza sopramentale. Tale sostanza era fatta della parte più materiale del sopramentale, la sostanza sopramentale più prossima al mondo fisico, e la prima a manifestarsi. La luce, un miscuglio d'oro e di rosso, formava una sostanza uniforme di un arancione luminoso. Tutto era così, la luce come le persone, tutto aveva quel colore, ma con sfumature diverse che consentivano di distinguere le cose una da l'altra. L'impressione generale era di un mondo privo di ombre. Esistevano sì sfumature, ma non ombre. L'atmosfera era pervasa di gioia, di calma, di ordine. Tutto procedeva regolarmente ed in silenzio. Al contempo si potevano osservare tutti i particolari di un'educazione, di un addestramento a tutto campo, grazie al quale venivano preparate le persone a bordo. Quest'immensa nave aveva appena attraccato alla riva del mondo sopramentale, e un primo gruppo di passeggeri, destinati a divenire i futuri abitanti del mondo sopramentale, si disponeva a scendere a terra. Tutto era pronto per questo primo sbarco. Sul pontile era schierato un certo numero di esseri altissimi. Non erano esseri umani, non erano mai stati uomini in precedenza. Non erano neppure tuttavia gli abitanti stabili del mondo sopramentale. Erano stati delegati dall'alto e collocati là per controllare e sorvegliare lo sbarco. Sin dal primo momento e per tutto il tempo, la direzione di tutto l'insieme delle operazioni spettava a me. Avevo preparato io stessa tutti i gruppi. Stavo in piedi, sulla nave, al capo alto della passerella, chiamando i gruppi ad uno ad uno e facendoli scendere a terra. Gli esseri di alta statura, la schierati, passavano, per così dire, in rivista, i passeggeri che sbarcavano, autorizzando a scendere chi era pronto, ma rimandando indietro chi non lo era e doveva proseguire l'addestramento a bordo della nave. Mentre ero intenta ad osservare tutta quella gente, la parte della mia coscienza proveniente da qui fu colta da estremo interesse. Voleva vedere e riconoscere tutte le persone, constatare come fossero cambiate e verificare chi di loro venisse accettato immediatamente e chi dovesse invece rimanere a bordo e proseguire l'addestramento. Dopo un certo tempo, e mentre continuavo a guardarmi attorno, ho iniziato a sentirmi trascinare indietro, affinché il mio corpo si risvegliasse. E nella mia coscienza protestavo, «No, no, non ancora, non ancora voglio vedere queste persone». Guardavo e annotavo con intenso interesse. Le cose sono continuate così sino a che, tutto d'un tratto, l'orologio a pendolo si è messo a suonare le tre, riportandomi indietro bruscamente. Il mio corpo ha provato la sensazione di una caduta repentina. Essendo stata richiamata con tanta subitaneità, sono ritornata con uno shock, ma memore di tutto. Sono rimasta tranquilla e immobile fino a quando sono riuscita a ricomporre tutta l'esperienza e a fissarne il ricordo. Sulla nave la natura degli oggetti non era quale noi la conosciamo sulla terra. Gli abiti, ad esempio, non erano fatti di stoffa, e quel materiale somigliante a stoffa non era fabbricato, ma faceva parte del loro stesso corpo. Era costituito della medesima sostanza che assumeva forme diverse. Possedeva una sorta di plasticità. Quando si rendeva necessario, un cambiamento, lo si effettuava non mediante un mezzo artificiale ed esterno, ma mediante un'operazione interiore, un movimento di coscienza che conferiva forma o apparenza alla sostanza. La vita creava le proprie forme. In tutte le cose vi era un'unica sostanza che modificava la qualità della sua vibrazione a seconda della necessità e dell'uso. Coloro che venivano rimandati indietro per un addestramento supplementare non erano di colore uniforme. Il loro corpo presentava come delle macchie di un'opacità grigiastra, di una sostanza simile a quella terrestre. Avevano una tinta spenta, come non fossero interamente impregnati di luce. Non fossero trasformati. Non in tutto il corpo erano così, ma solo in alcuni punti. Gli esseri di alta statura sulla riva non avevano lo stesso colore, perlomeno non quel tono arancione. Erano più pallidi, più trasparenti. Ad eccezione di parte del corpo, della loro figura si poteva distinguere solo il contorno. Erano imponenti, sembravano privi ossatura e capaci di assumere forme diverse secondo le necessità. Solamente dalla vita in giù mostravano una densità stabile, impercettibile nel resto del corpo. Il colore era assai più chiaro e conteneva pochissimo rosso. Tendeva piuttosto all'oro o anche al bianco. Le parti di luce biancastra erano traslucide, non che fossero proprio trasparenti, sembravano però meno dense e più sottili della sostanza arancione. Sia quando sono stata richiamata indietro, che nel momento in cui dicevo «non ancora» ho avuto una fugace visione di me stessa, ovvero della mia forma, nel mondo sopramentale. Ero una via di mezzo tra gli esseri di alta statura e quelli a bordo della nave. La parte superiore del mio corpo, in particolare la testa, era soltanto una sagoma dal contenuto bianco con una frangiatura arancione. Più si discendeva verso i piedi, più il colore assomigliava a quello dei passeggeri della nave, vale a dire arancione. A mano a mano si risaliva verso la sommità del capo, diveniva sempre più traslucido e bianco, mentre la tonalità rossa diminuiva. La mia testa non era che una sagoma, con un sole splendente all'interno. Ne uscivano raggi di luce, che esprimevano l'azione della volontà. Quanto alle persone che ho visto a bordo della nave, le ho riconosciute tutte. Certuni erano di qui, dell'ashram, altri venivano da fuori, ma conosco anche loro. Ho visto proprio tutti, ma poiché sapevo che una volta ritornata non mi sarei potuta ricordare di ciascuno, ho deciso di non fare nomi. D'altronde non è necessario. Tre o quattro volti erano visibili assai chiaramente, e quando li ho visti, ho compreso il sentimento che avevo provato qui sulla terra, guardandoli negli occhi. Traspariva una gioia talmente straordinaria. In linea generale, le persone erano giovani. Si notavano pochissimi ragazzi, la cui età si aggirava attorno ai quattordici o quindici anni. Certamente non sotto i dieci o dodici. Non sono rimasta abbastanza a lungo da discernere tutti i particolari. Non si vedevano neppure, salvo qualche eccezione, persone assai avanti negli anni. La maggior parte di coloro che scendevano a terra era di mezza età, tranne alcuni. Prima di questa esperienza, certi casi individuali erano già stati esaminati diverse volte in un luogo nel quale si valutano le persone idonee ad essere sopramentalizzate. A questo punto ho avuto qualche sorpresa, di cui ho preso nota. A qualcuno ne ho anche accennato. Tuttavia, coloro che ho fatto sbarcare oggi li ho visti benissimo. Salvo qualche rare eccezione, erano, di età media, né bambini né anziani. E ciò corrispondeva abbastanza alle mie aspettative. Ho deciso di non parlare, di non fornire indicazioni precise. Dal momento che non sono rimasta sino al termine, non mi è stato possibile formarmi un quadro esatto. Il quadro, anzi, non era affatto chiaro né completo. Non voglio rivelare qualcosa a certuni e non ad altri. Ciò che posso dire è che il criterio, il giudizio, sullo stato di preparazione allo sbarco, si basava esclusivamente sulla sostanza costitutiva delle persone. Cioè sul fatto che appartenessero completamente al mondo sopramentale o meno, che fossero composte da quella sostanza tanto particolare. Il criterio di selezione non era né morale né psicologico. È probabile che la sostanza di cui era plasmato il loro corpo fosse l'esito di una legge o di un movimento interiori, i quali tuttavia in quel momento non venivano indagati. Quanto meno è chiarissimo che i valori sono differenti. Quando sono ritornata, oltre a ricordare l'esperienza, sapevo che il mondo sopramentale è permanente, che la mia presenza in esso è permanente, e che per permettere la congiunzione dei due mondi nella coscienza come nella sostanza, occorre soltanto un anello mancante, l'anello che è appunto in costruzione. Avevo allora l'impressione di un'estrema relatività, no, non proprio, l'impressione che il rapporto fra questo mondo e l'altro modificasse radicalmente il criterio in base al quale tutto vada valutato o apprezzato. Tale criterio non aveva alcunché di mentale, e infondeva la sensazione interiore, piuttosto strana, che una gran quantità di cose, da noi giudicate buone o cattive, in realtà non siano affatto tali. Era chiarissimo che tutto dipendeva dalla capacità, dall'attitudine delle cose a tradurre il mondo sopramentale o a rapportarsi con esso. Era così completamente diverso, talvolta addirittura così contrario rispetto al nostro comune metro di giudizio. Appare del tutto evidente che la nostra valutazione di ciò che è divino, oppure no, non è giusta. La nostra concezione abituale di ciò che è antidivino sembra artificiale, sembra basata su qualcosa di non vero o di non vivo. D'altronde quella che qui chiamiamo vita non mi pareva per nulla viva in confronto a quel mondo. Anche in riferimento alle persone ho visto come i fattori che le aiutano a divenire sopramentali, oppure glielo impediscono, siano radicalmente diversi da quelli immaginati dai nostri criteri morali consueti. Mi sono resa conto di quanto siamo ridicoli. Grazie a tutti.